A dicembre l'anteprima con una mostra diffusa in alcune attività commerciali. Sabato 9 aprile l'inaugurazione dell'attesa esposizione di 100 quadri per Albenga di Sergio Giusto presso l'ex asilo Esther Siccardi e oggi una performance live il cui ricavato sarà donato alla Croce Bianca di Albenga. Durante il lockdown ho avuto questa ispirazione della realizzazione dei 100 quadri di Albenga. Ho pensato tanto alla Croce Bianca, la loro fatica, la loro dedizione e ho pensato che potevo fare qualcosa anche io per tutta questa situazione terribile che ci è venuta addosso improvvisamente e quindi ho deciso attraverso questo evento di creare l'opportunità per tutti di contribuire attraverso questa idea. Un quadro di donato alla Croce Bianca insieme a tutti i libretti che il Comune ha dato a disposizione, un'offerta e speriamo di riuscire ad arrivare a una cifra buona che ne valga la pena. Sono felice comunque di aver provato tutto questo. Nella mostra ho visto molto colore. Da cosa sei ispirato quando scendi? La rispirazione mi viene giornalmente. Ogni giorno io agiro per il centro storico e a seconda della giornata se è piovosa, se è luminosa, arrivo in studio e eseguo l'opera, un morale diciamo, chiamiamola così, come quel quadro che ho fatto tutto azzurro, mi venivo da un bagno fuori stagione e avevo l'adrenalina proprio in corpo per l'acqua gelizza che mi ha solccato la pelle e quindi di getto ho realizzato tutto questo. Grazie. Prego.